indovinate dove siamo? Alle mie spalle ho il ghiaccia del caracorum, si è un po' ritirato, andremo a fare un'8000 giornata giusto come aperitivo, si quello lì alle tue spalle, andremo a fare questa qua alle mie spalle che non mi ricordo più come si chiama? Il Choyu, il Choyu è la mia professione, Naga Parbat, si esatto il Choyu non c'entra niente col pakistan, Naga Parbat, la Clara è già fusa per la quota avete capito qua ci troviamo a 4.500 metri di quota e perciò gli fa già un po' effetto alla Clara, bene campeggeremo qui questa notte mettiamo la tendina di sotto perché ormai è tardi, ormai è tardi, forse andremo avanti ancora un'oretta, un'oretta e mezzo poi basta, poi dormiamo e domani mattina ci riparti e che dire, vi aggiorniamo più avanti, spedizione super leggera, io la Clara, non abbiamo neanche lo zaino, lo zaino l'abbiamo abbandonato lì sotto, fatica 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 comunque a guardare cosa ho mangiato via il ghiacciaio, è incredibile, qua una volta era tutto ghiacciaio